Minchia si vede proprio che è iniziato l'inverno, devo ogni volta riscaldarmi e avere il fiatone Quello inutile d'inverno che fa tutto freddo Oggi siamo in questo bel posto per un salto in particolare Da lì... E l'ho fatto quasi un anno fa, l'ultima volta E mi slogai una caviglia, ma sono qui per rifarlo Il problema è questo muro qua, è abbastanza sottile E quindi devi essere molto preciso Una parte molto difficile nel parkour è quando ti fai male in un salto e vuoi rifarlo Però sai che ti sei fatto già male, quindi è difficile oltrepassare la propria barriera mentale La preparazione è davvero brutta di questo salto perché c'è il pavimento in discesa Quindi quando atterro metto più peso su questa gamba Cioè è veramente un inferno Ok cercherò prima di atterrare qua Perché è troppo fino a sto muro E per la preparazione è meglio... Meglio su questo perché è molto più spesso E quindi magari ho meno paura Perfetto, sono atterrato qua Adesso tocca Che è molto più spesso, però confido in me C'è la parte che c'è C'è la parte che c'è Grazie a tutti.